Zitta, zitta, campanami chi se sono stati fermi non è colpa vostra a rinchiudere da qui, scarciare il pesce e metterlo a paneato e poi se la gente va a parlare Sì, sì, anche ci siamo qua anche questo, non mi permettono di affacciarsi ma non è la caputa della casa e poi, poi lo dici che non sempre sa bene la colpa, la colpa è tutta da voi e dai la curta una bella sardia da qui e anche la da papasotta chi va a parlare e ha metto a posto pure a essi e anche a papuri che l'ha spadallata di muri ma non lo scappare, la colpa è del sardegli e la cura puri i rusteghi di Carlo Goldoni costituisce una delle commedie di maggior vanto della drammaturgia italiana della seconda parte del settecento scritta in lingua veneta i rusteghi fu rappresentata al teatro San Luca di Venezia la prima volta nel 1760 il mio marito mi mi dà credito non sapeva niente scelta ragione è tutta colpa a me tutto quello che vuole ma ne a farmi rinascosta in casa a me che la scusa la peggerebbe la scusa la peggerebbe non c'è però non sapeva niente non sapeva niente è tutta classe la scusa la strada o non sapeva niente avete capito che la km non mi ha figli ma dai due uomini non lo erano I personaggi sono burberi, chiusi e prepotenti. Le vicende nella trama originale si svolgono sempre nella città della Laguna e vedono combinare il matrimonio tra Lucetta con Filippetto all'insaputa dei loro genitori che, grazie all'intercessione delle madri, sono nel finale si rassegnano ad accettare la nuova situazione dei figli. Sei saputo che è successo? La paura non è per quello che è successo, è per quello che può succedere a presa. Ando! E che cosa c'è giù? Le figlie dei cristiani vuole, non vanno a girare una casa all'altra contro la pastura. E ti hai ragione, andiamo a città. E' meglio! E' meglio! E' meglio! E' meglio! E' meglio! Basta, basta! Fino a ora hanno parlato! Chi vuole mettere una randanna, non posso ci vado a essere bene! San Natolo chi ha due uomini a sera o c'è una scanna? Ma che c'è te l'esco, capisci? Ma che sta arrivando la casa, San Natolo, no! E' pure, eh! Il Rustec in versione dialettale triventina è stata proposta con successo da una compagnia teatrale amatoriale del paese dinanzi ad un folto pubblico. Vieni! Vieni! Tra Brugne che fai? Sì, dai tu! E' vieni! Dimmelo a prendere la sera! C'è pure se t'acqua! C'è sempre tu? Sì, dai tu, sì! Sempre tu che mi hai! Vanno qua a San Natolo! E tu, signorale Cietta, vieni qua! Taccette per figlia! E tu? Dai la merda! Asino! La commedia mette in scena lo scontro tra il nuovo e l'antico, tra una concezione di vita rigida, quella dei mariti, e una più moderna fondata sul dialogo e sulla comprensione interpretata invece dalle donne. Ma andiamo e beviamo in Germania e facciamo una bella frittura alla salute a tutti questi cristiani perché tanta pazienza e buona cliente ci hanno fatto l'onore di aspettare. Come aiuto aiuto, buono malamento. Salute! Grazie! Grazie!